Giunto alla settima edizione il progetto Fuorigioco, finalizzato alla rieducazione dei detenuti attraverso lo sport. Il progetto, organizzato dall'APS Fuorigioco con il patrocinio del Ministero della Giustizia, è iniziato a febbraio. In questi mesi ha visto realizzare presso la casa circondariale di Taranto diverse attività per promuovere la cultura della legalità e i valori dello sport tra i detenuti. In un quadrangolare di calcio si sono sfidati allo Iacobone le rappresentative di detenuti, magistrati, avvocati e polizia penitenziaria. Il progetto Fuorigioco non è solo ed esclusivamente un torneo di calcio, ma è un progetto articolato, complesso e completo che ci ha visto iniziare le attività all'interno di un'aula multimediale, all'interno della casa circondariale, con delle lezioni in cui abbiamo parlato alla popolazione detenuta partecipante al progetto, di tutte le materie, di tutte le tematiche afferenti allo sport. Nel corso delle attività didattiche sono intervenuti anche volti noti del calcio italiano, Pierluigi Orlandini, Giampaolo Spagnulo e Antonio Di Gennaro, che hanno raccontato le loro esperienze di vita, fornendo ai ragazzi reclusi interessanti spunti di riflessione. È stata una bella sfida, perché dopo il Covid avevamo un po' sospeso tutto ciò che riguardava questo progetto, che in realtà affonda le sue radici, dal 2013. Però quest'anno abbiamo cercato chiaramente con gli avvocati e con la magistratura anche di alzare proprio il tiro. Il progetto fuorigioco insomma intende rieducare i detenuti, trasmettendo loro i valori tipici dello sport, come il rispetto delle regole dell'avversario. Il direttore dell'Istituto Penitenziario di Taranto, Luciano Mellone, ha accolto favorevolmente la riproposizione del progetto. Una giornata di sport per ricordare la situazione delle carceri, sempre più drammatica, basta far riferimento all'altissimo numero di suicidi che purtroppo ancora si reggiscono all'interno del carcere. Che venga prima o poi applicato quel principio della Costituzione che la pena deve soprattutto rieducare, risocializzare una vita migliore per chi è entrato all'interno delle mura carcerarie.